Ragazzi, buongiorno e benvenuti in questo video. Allora, io sono appena tornata, sono stata in piazza per fare quei controlli tumorali che mandano le lettere, quindi l'ho fatta, quindi vi consiglio fatela ragazzi, perché a volte ci scocciamo, io sono la prima, anche io non volevo andare, poi ho pensato per non lasciare la bambina mezz'ora, poi la devo lasciare per più tempo, quindi mi sono autoconvinta e sono andata, è venuta pure mamma e Denise e dopo siamo stati, infatti c'è Denise qua due minuti col tablet, perché si è scocciata giustamente lì e adesso gli ho dato il tablet. E dicevo, dopo di che siamo stati da qui discount, perché mamma doveva prendere alcune cosine e io ho visto questa morbidente che è 40 lavaggi, 3 litri, 3,79 euro, non lo so, ditemi voi, conviene? Mamma ha detto che conviene, io non lo so, vedo un po' caro, no, non lo so. Dopodiché ho finito uno spray a base di candeggina, proprio stamattina, perché c'era una macchia sul materasso di Morena, Morena è partita, mancherà una settimana, speriamo che il tempo regga dove è andata lei, e quindi abbassa un po' per favore, se mi segnalano il video dobbiamo eliminare tutto, speriamo che regga il tempo, perché da lei porta pioggia, e quindi ho usato l'ultimo goccio che avevo di detersivo alla candeggina, al gusto candeggina, stavo dicendo, vabbè non ci fate caso, è quasi orario di pranzo, quindi adesso non metto bene più insieme, pensieri e parole, e ho preso questo, un euro e 39, sì 49, siamo lì, capi bianchi, cucina e bagno, e per me questo è un jolly, dove mi serve lo userò, dopodiché ho acquistato i dischetti che tra me e Morena finiscono in un attimo, e basta, io ero quella che dicevo, no, io vengo per farti compagnia ma non comprerò nulla, perché non mi serve nulla, e ho speso più io che mamma, e un'altra cosa ragazzi che vi voglio far vedere, io qualche giorno fa vi ho presentato un frullino, un attimo che lo prendo, vi ho presentato questo frullatore qui, un attimo scusatemi, ho presentato questo frullatore qui, vi ho fatto vedere che io lo utilizzo per la frutta, però io ragazzi, questo frullatore qui è in vetro, guardate, è comodissimo, anche da lavare è comodissimo, si può lavare comunque anche in, come si dice, in lavastoviglie, allora questo frullino è nato per la frutta, io infatti ci ho messo i mirtilli, o i lamponi, così non mi ricordo, comunque qualche video fa, se ve lo siete persi, ve lo lascio qui, dopodiché un goccino d'acqua, e ragazzi voi non immaginate il sapore, invece di queste bevande zuccherate, voi con questo avete una fetta di frutta avanzata, la mettete e vi frulla tutto, alla perfezione, anche per i bambini piccoli ragazzi, perché non vi lascia, mio marito sta lavorando sul tetto, no è papà, mamma, sentite, sta lavorando sul tetto, perché qua ogni anno ragazzi, prima dell'inverno, ci sono da affrontare problemi, come in ogni casa ovviamente, da risolvere problemi, guardate, ha le lame fatte in questo modo, quindi prende tutto, riesce a prendere tutto e non lascia niente, ci sentiamo fra un attimo, allora dicevo, io in questo contenitore, adesso ci metterò la frutta, al momento mi trovo già sbucciato il melone, quindi non vado a sbucciare altro ragazzi, mi dispiace, poi andrebbe a male, però io qua vi posso garantire, forse non ci crederete, io ho fatto i piselli, siccome vi ho detto anche l'altra volta, Denise non ama le cose con la buccia, tipo i piselli, il minestrone, queste cose qua, le lenticchie, quindi me le lascia tutte, io ho preso una porzione piccolina e gliel'ho frullata là, quindi non è solo adatto per la frutta, è adatto anche per, non lo so, la zucca rossa, la fate in padella, per i bambini più piccolini, ad esempio devo prendere in giro Denise e la faccio per dire, però l'avessi avuto quando Denise era piccolina sarebbe stato un grosso aiuto, quindi adesso io metterò la frutta qui dentro, dopodiché ci aggiungerò l'acqua e mi raccomando ragazzi, c'è scritto massima, come si dice, oltre non dovete superare, c'è scritto qui sul vetro, e quindi vado a mettere un po' di frutta, io adesso, come vi dicevo, sono appena rientrata, quindi mi fa gola prendere qualcosina di fresco, però non ne metto tanta, perché è quasi orario di pranzo, prendo l'acqua fresca, arrivo subito, poi stamattina mio marito, stamattina mio marito mi ha portato il cornetto ragazzi, ricotta e fichi, mamma mia come era buono, buonissimo, Allora l'acqua io ragazzi vado a tentativi, perché è anche in base alla frutta che mettete, quindi questo frullino, questo frullino ha un timer, non un timer, scusate, un bottongino, che dura 30 secondi, è come se avesse un timer, guardate, Ok, adesso, si può bere anche già da qui, però io per fare l'elegante, ecco guardate, è giusta la quantità, lo metto qui, lo metterò in lavastoviglie, E' buono, buono, buonissimo, mamma mia, buonissimo, Buonissimo, allora dicevo, questa azienda si chiama Ote, vabbè ve lo scrivo, perché non vorrei sbagliare le pronunce, poi io sono brava a sbagliarle, Quindi, dicevo, mi raccomando ragazzi, io vi lascio tutto giù in infobox, perché ne vale la pena, soprattutto se siete all'inizio dello svezzamento, quindi è una comodità per i bambini, se siete, tipo fate palestra, quando rientrate vi fate un frullato, è bellissimo poi anche da tenerlo qui sopra, Io ce l'ho sempre fisso, ce l'ho con il filo corto corto, quando mi serve lo metto dove? Qui, lo infilo lì, poi ce l'ho sempre qui vicino alla pianta, non lo conservo, perché quando si iniziano a conservare queste cose qui, non si usano più, E niente, quindi vi ripeto ragazzi, se volete acquistarlo, vi lascio giù tutto scritto, e io adesso mi metto all'opera, non sono neanche... Ah no, devo fare pasta e panna oggi, devo cucinare pasta con la panna, perché ho detto, se faccio tardi è una cosa che può fare anche mio marito, e niente, ci aggiorniamo più tardi. Grazie a tutti! 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 Grazie a tutti!